In riferimento alla segnalazione di Dino Scipioni, paziente ricoverato al San Salvatore che ieri ha denunciato la scarsa qualità dei pasti del nosocomio aquilano, la Innova, ditta che ha l'appalto per la ristorazione nella persona del signor Amedeo Apicella, ritiene opportuno fare alcune precisazioni. Quello del signor Scipioni, infatti, spiega la ditta, rappresenta un caso di lamentela isolato, in quanto da luglio, periodo in cui è stato preso l'appalto, gli utenti hanno sempre espresso il loro gradimento sui pasti serviti in ospedale. Il servizio è sempre stato ritenuto idoneo e congruo sia da parte della direzione sanitaria che dell'utenza, alla quale più volte ci si è riferiti per valutare il gradimento. In merito poi al discorso dei pasti serviti dopo ore da confezionamento, Innova precisa anche che il pasto viene sempre servito a temperature idonee, rispettando sempre i parametri di legge. Innova rispetta anche la prenotazione a letto del degente e inoltre fornisce una scelta tra tre pietanze, sia per colazione che per pranzo e cena. Questa la precisazione che giunge dalla ditta, che ricorda ancora una volta come in questi mesi abbiano sempre cercato di mantenere standard qualitativi alti. Grazie a tutti.